Eccoci qua in un nuovo episodio del podcast barra podcast in base al fatto se lo senti come podcast su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast piuttosto che oppure podcast se mi stai guardando su YouTube addirittura. In ogni caso di cosa parliamo oggi? Di un argomento che mi sta molto a cuore perché è una domanda che mi è stata fatta tante volte nel corso di tutti questi miei anni tra parentesi quest'anno sono dieci sui social cioè Irene come si fa a scegliere o a capire che è il momento di fare un secondo figlio cioè qual è il momento giusto per fare un altro figlio secondo, terzo, quarto in base a quanti appunto uno desidera e vuole. Diciamo che da un certo punto di vista io non sono la persona migliore a cui chiedere perché le prime due bimbe chi mi segue da più tempo lo sa in realtà io non le ho cercate. Sono state una bellissima sorpresa che poi una volta arrivate ovviamente io ho accolto con entusiasmo ma non programmata, ok non entro nei dettagli. Soprattutto Rebecca perché Rebecca e Lidia si passano 18 mesi e una settimana questo significa che io sono rimasta in città di Rebecca che Lidia aveva 9 mesi. Come è andata? Ovviamente è andata bene, siamo qua, c'è anche Gaia quindi significa che sono sopravvissuta. Si può fare, questo per dirvi subito è si può fare. Da qua a lo consiglierei una parte di me senza dubbio sì, un'altra parte di me non lo so, sono onesta nel senso che analizziamo insieme oggi i pro e contro di fare figli vicini o figli lontani ma prima di arrivare alla tempistica ragazze ci tengo a darvi un concetto che in realtà per me non è stato chiaro per tanti anni l'ho capito una volta che sono diventata mamma e mamma di più di una, ok? Quindi spoiler per chi ancora non ha secondi, terzi figli o altro ma in realtà anche per chi ancora non ha figli, dubito che mi ascoltereste se non avete figli, cioè non è italiano però avete capito i figli non si fanno per un atto altruistico, mi stavo impappinando, non si fanno per un atto altruistico, i figli si fanno per puro egoismo perché se dovessimo essere altruisti con il mondo che c'è, con le risorse che comunque vanno in esaurimento siamo 8 miliardi sulla terra, siamo sovra, cioè c'è una sovrapproduzione di esseri umani che tra l'altro con tutte le loro azioni devastano il mondo, inquinamento, disboscazione, cioè non siamo proprio una mano santa per il mondo dove viviamo quindi se dovessimo farlo per un atto altruistico non dovremmo fare figli per un po' di generazioni o comunque dovrebbe farla solo gente selezionata in un determinato modo ok, evitiamo di pensare a queste cose che qualcuno in passato ci ha provato e non è bello quindi decade il fatto che si faccia per fare un favore a qualcuno questo cosa c'entra con l'argomento di oggi? c'entra nel fatto che tanti di voi, comunque è capitato, ho sentito anche dire faccio un secondo figlio per dare un fratello al primo così poi non è solo a me si gela, vi giuro, il sangue nelle vene quando sento questa cosa che ragazze, cioè ci sta, non è che dico che uno, che questo concetto non ci stia ma è estremamente superficiale, andiamo un pochino a fondo, oggi cerchiamo di andare un po' a fondo di questa cosa, il perché non è corretta questa cosa, mi permetto di dire non è corretta perché il figlio lo crescete voi, non lo cresce il fratello, ok? e poi ho visto tante coppie di fratelli o sorelle non andare d'accordo quindi questa cosa di regalare un fratello o una sorella non è assolutamente scontata non è assolutamente per forza un regalo, magari può essere anche una spina nel fianco in determinati momenti della vita, eccetera il fatto che due fratelli o due sorelle vadano d'accordo sicuramente ha tanto, non solo ma tanto ha a che fare su come si crescono i figli, su come io, persona, genitore passo il concetto del ti devi rapportare a tuo fratello o a tua sorella se io quel secondo figlio l'ho fatto per te, che sei mio primo genito ma di base io quel figlio non lo volevo così tanto, l'ho fatto più per un senso del dovere, chiamiamolo ma io quel bambino come lo crescerò? cioè farò del mio meglio comunque, ma il mio meglio sarà sufficiente? perché non dobbiamo neanche nasconderci dietro al dito del ogni mamma fa del suo meglio, sì certo qualunque mamma fa del suo meglio ma quel meglio è sufficiente, quel meglio che conseguenze ha? qua potrei aprire un altro podcast e magari lo faremo però chiudo la parentesi, pensiamo alle generazioni passate i nostri genitori, i nostri nonni hanno fatto del loro meglio ma è lo stesso meglio che possiamo fare noi? a volte no, quindi siamo portati a dover fare meglio tanto meno dato che ci siamo a questo mondo cerchiamo di dargli qualcosa di più e non solo di meno questo è il mio punto di vista, questo è come vi voglio le cose senza dubbio quindi innanzitutto è il momento di fare un secondo figlio la prima domanda da porsi è voglio un secondo figlio? cioè voglio ripassare determinate cose e ammesso e non concesso che io abbia un primo figlio unicorno come li chiamo io che dormono, mangiano, stanno tranquilli, sereni una maternità molto easy è assolutamente compensata non è detto che il secondo figlio sia uguale cioè io donna, mamma, io papà perché queste sono decisioni che si prendono possibilmente in due sento di avere le risorse per potermi far carico uno del primo figlio che per quanto unicorno possa essere comunque ha sempre delle esigenze da bambino e che sarà dipendente da me per x e tota anni ho la voglia di rimettermi in gioco da zero e tornare a cambiare i pannolini ad avere un esserino che ha bisogno di stare a volte anche 20 ore su 24 addosso alla tetta piuttosto che insomma sono disposta a quello sono disposta a dover gestire la relazione tra fratelli perché ragazzi fa crescere delle bimbe o dei bimbi fortemente uniti a livello familiare bisogna stare bene come famiglia bisogna dare l'esempio giusto bisogna riuscire a farli interagire senza far sì che nessuno si senta il preferito o quello non considerato e già vi assicuro io avendone tre questa cosa è dietro l'angolo cioè per quanto io mi impegni come madre per dare dei momenti esclusivi a ognuna di loro e far passare il concetto che voglio bene a tutte e tre questa cosa ogni tanto viene messa in dubbio nonostante io faccia del mio meglio ok e credo che chi mi conosce da tempo sa che tipo di maternità ho sa che ho un approccio di disciplina dolce di accoglienza di empatico eccetera eccetera non sono una mamma perfetta sia chiaro però ci provo con tutta veramente con tutta me stessa per arrivare a questo punto e nonostante questo ci sono a volte delle difficoltà tra di loro ma se io non avessi fatto quelle figlie perché io e Irene volevo dei figli comunque al di là di tutto la terza è stata assolutamente pianificata e quindi è arrivata subito ma è stata comunque cercata e infatti è stata la maternità per me più semplice in assoluto perché era ciò che volevo cioè è proprio è proprio stata bella quel postparto eccetera sola ma bella e quindi sono contenta di questa cosa e ho proprio visto come anche lei è riuscita a inserirsi in una maniera diversa io devo dire che ogni neonata quindi Rebecca e poi Guy è stata accolta dalla crew precedente quindi Lydia o Lydia Rebecca in maniera estremamente semplice devono aver percepito proprio questo stato di serenità nel fatto che l'amore si duplica non si dimezza e questo vuole essere un bel messaggio non abbiate paura di fare secondi o più figli di fare fratelli se è quello che desiderate perché non togliete niente al primo figlio o meglio è naturale toglierlo perché in esclusiva vi avrà solo il primo figlio dal secondo in poi chi nascono che già vi devono dividere già in gravidanza dovrete rispondere e prendervi cura del primo figlio o figlia e nello stesso tempo state gestando state creando la vita dentro di voi quindi siete già dividi no? ma l'amore si duplica non si divide quindi e so che questa cosa finché non succede ogni mamma ha un po' il timore di non riuscire ad amare quel secondo figlio tanto quanto ama il primo e in realtà succede proprio così l'amore si moltiplica e questa cosa ripeto è bellissima scusate se lo dico da un minuto ma è un concetto che davanti a tutte le premesse che abbiamo fatto dell'amore egoistico del rispondere ai propri bisogni come donna come famiglia quanti figli voglio eccetera eccetera fregandocene tra virgolette delle conseguenze negative ovviamente c'è anche qualcosa di bello che è proprio quell'amore quell'amore viscerale che ogni mamma sente per il proprio bambino e si duplica diventa sempre più grande ed è bellissimo le difficoltà sono tante sì però si fa fronte a tutto adesso provando a pensare ma è meglio farli vicini o far passare più tempo io ho sempre saputo per esempio che volevo una famiglia numerosa numerosa comunque tre più in realtà ho sempre detto che volevo quattro figli ho sempre detto due maschili e femmine quindi già su questo mi ero sbagliata però va bene ero proprio molto consapevole che non sapevo chi come quando ma questo ve lo dico già da ragazzina che io ho quattro figli cioè volevo tanti figli sicuramente era un bisogno mio che poi ho analizzato psicoterapia eccetera io ho bisogno di essere un certo tipo di mamma e ho bisogno di essere mamma è sicuramente una cosa che mi risponde tanto che è una necessità mia non la vivo più come una cosa sbagliata cosa che è stata in passato ma ho capito che fa parte di me e mi appaga estremamente fare la mamma ed è giusto che sia così detto questo l'esperienza di Lidia e Rebecca vicino mi ha stravolto perché io ho sempre detto secondo figlio quando il primo ne ha almeno tre quando cammina quando l'ha spannolinato quando hai diciamo fatto fronte ai bisogni più grandi a livello proprio di impegno fisico di quello che devi fare col bambino allora ti puoi rimettere in gioco la vita come avete capito aveva un piano diverso per me e io sono rimasta incinta di Rebecca che Lidia neanche camminava ancora stava solo in braccio lasciamo perdere il fatto che poi le ho allattate in tandem eccetera parlo proprio fisicamente non camminava neanche quindi questo che cosa ha implicato che mi sono trovata a fronteggiare una maternità di cui io non avevo proprio neanche idea che avrei fronteggiato quel tipo di cosa eppure vi dico ad oggi è stata la cosa migliore che mi sia successa perché il primo anno è tostissimo tosto ma poi dopo il primo anno vai molto più in discesa perché hai due bambine vicine ma non gemelle quindi un minimo di autonomia la prima riesce ad averla rispetto alla seconda ma sono molto vicine quindi io ho spannolinato Lidia si è spannolinata che Rebecca era praticamente nata da due mesi quindi io per due mesi cambiavo il pannolino a tutte e due non sono mai uscita dal tunnel ecco il discorso è che anche tra Gaia e Rebecca ci sono due anni e tre mesi quindi comunque piccole Rebecca ha tolto il pannolino a solo 18 mesi quindi lì è stato più traumatico tornare a cambiare il pannolino a Gaia ve lo assicuro dopo mesi che non ne cambiavo più uno ma detto questo è stato proprio sono comunque vicine tutte e tre perché al fine due anni e tre mesi sono comunque vicine e vi devo dire che è stata ripeto la cosa migliore che mi sia successa quindi ad oggi se mi chiedete è meglio fare figli vicini o lontani io vi rispondo per la mia esperienza personale per quelle che sono le mie risorse per quello che è il mio modo di vivere la maternità meglio vicine perché adesso hanno un'età per cui Lidia ha quasi otto anni Rebecca tra poco ne fa sei Gaia ne ha tre e mezzo io a marzo vado via una settimana al mare senza figlie con la mia migliore amica cioè sono nelle condizioni di poter star via una settimana dove le bambine non moriranno sopravviveranno sicuramente mi mancheranno io mancherò a loro ma posso farlo quindi posso dire posso dire di aver vissuto otto anni di maternità intensiva ma adesso ho un po' di luce in fondo al tunnel sono tornata in palestra da quasi due anni cioè ho ripreso uscire con le amiche la sera da un anno e mezzo è proprio è vero che c'è stata una separazione in mezzo ma questa è una dinamica familiare mettiamola a livello proprio di poter lasciare bambine perché Gaia ha comunque tre anni e mezzo sotto due anni non credo che me la sarei sentita tantissimo di riprendere uscire la sera o altro quindi al di là di tutto va bene così e però questa cosa è bella se penso a chi spalma la maternità magari nel giro di 15 anni una figlia o nei 5 pensiamo in 15 anni ti ritrovi dopo 15 anni ancora dover rinunciare a determinate parti della tua vita secondo me pesa un pochino di più però per come sono fatta io per questo vi dico non c'è un giusto o uno sbagliato in tutto questo ascoltatevi voi dentro chiedetevi voi dentro che cosa è meglio per voi come siete fatte io ho avuto i miei momenti di vita mondana ve lo assicuro molto mondana intorno ai 21-22 anni ma di base sono una persona estremamente tranquilla quindi mi piace uscire con le amiche bere mangiare una pizza andare al cinema andare in montagna fare le mie cose ma non sono una persona che ha bisogno o meglio non ero una persona che aveva bisogno di tantissima libertà cioè fisica intendo proprio fisica non mi è mai pesato tenere addosso le mie figlie ok soprattutto piccole adesso ogni tanto tutte e tre sono proprio ingombranti si fa fatica ma da piccole io non vivo la maternità i primi diciamo 0-3 anni dove mi sento di privarmi di qualcosa per me è tutto un'aggiunta è tutto qualcosa di estremamente bello anche nei momenti di difficoltà poi grido anch'io sclero anch'io ci mancherebbe però portare in fascia in marsupio dare il seno non ho mai sentito la necessità di dover condividere questa parte cioè vieni a farmi le pulinzie in casa portami da mangiare ma mia figlia ci penso io non ho mai sentito quel desiderio di arrivo al papà la sera chiete la lancio perché io devo farmi i fatti miei no quando erano molto piccole non era qualcosa che sentivo mio ma questo non rende né migliore né peggiore sia chiaro è proprio io come sono fatta quindi chiedetevi voi come siete fatte che cos'è è ovvio che se io divento mamma io sono diventata mamma sono rimasta in città 27 anni con molta poca libertà alle spalle perché anche durante l'università lavoravo quindi ve l'ho detto ho avuto quell'anno e mezzo così ma poi ho sempre avuto cani che comunque cani e gatti ma soprattutto i cani ti limitano una certa libertà perché devi portarli fuori soprattutto se come me vivi in un appartamento se devi andare in vacanza devi pensare che li puoi lasciare non li puoi lasciare troppo infatti un problema che ho avuto quando sono trasferita in Inghilterra per due anni è stato che mi mancavano i miei cani eccetera eccetera quindi non poterli portare lì è stato un grosso problema per me ti responsabilizza ok questo era per dire che paragoniamo cani a bambini ma è una responsabilità che uno si prende quindi io sono sempre stata una persona responsabile da questo punto di vista mettiamola o comunque che si autoresponsabilizzava perciò non sento cioè le bambine sono entrate in un contesto dove io non sentivo la rinuncia ok dove per me erano un più bellissimo da affrontare che non vedevo l'ora affrontare perché era 11 anni che volevo diventare mamma e quindi non ho sentito di essere privata di qualcosa ma a volte mi capita di interfacciarmi con mamme che amano da morire i loro figli ma magari sono diventate mamme a 41 42 43 anni e per quanto abbiano desiderato tanto quella gravidanza sono stata abituata per 40 anni a farsi cavo di loro ed è più difficile non che non lo facciano poi sono bravissime ma è più difficile e questo va riconosciuto fare delle rinunce se tu per tanti anni diciamo una decina d'anni dai 30 ai 40 hai avuto disponibilità economica perché lavoravi zero responsabilità perché magari non hai avuto neanche mai un cane ok e volevi andare a fare un weekend for report lo facevi si cenava alle 8 e mezza 9 quando volevi ti andavi a fare l'aperitivo quando volevi anche gli orari dei bambini ti stravolgono la vita ragazze perché siamo noi che dobbiamo girare intorno ai bambini non i bambini che devono girare intorno a noi ok quindi veramente cambia il baricentro della vita e se per tanti anni sei stata abituata a mettere te al centro di tutta quella roba lì è più difficile non impossibile è semplicemente più difficile riuscire a fare quello switch senza sentire di essere privati di qualcosa quindi attenzione un figlio due figli tre figli cambia ok se state pensando di voler fare un secondo figlio chiedetevi come avete attutito la prima maternità che cosa siete disposti a rinunciare siete disposti a ricominciare non siete obbligate a fare un secondo figlio o un terzo figlio ok deve essere un desiderio vostro e di nessun altro i figli unici campano benissimo spesso hanno molto meno problemi di chi ha fratelli e sorelle la mia migliore amica è figlia unica e a me che sono come una sorella per lei quindi volevo solo rassicurarvi del figlio unico sì ma troverà tanti amici preziosi nella sua vita che fungeranno comunque da fratelli e sorelle quindi alla fine di questa puntata ti chiedo semplicemente di chiederti tu che cosa vuoi poi decidi cosa fare